Per l'ospedale di Sciacca i cittadini pretendono fatti, non parole. Questa è l'opinione di Teresa Bilello, che giunge all'indomani del caso degli inviti formulati dall'ASPA Medici Cardiologi in servizio del Giovanni Paolo II a svolgere turni al Barone Lombardo di Canicattì. Un caso che il primario della cardiologia di Sciacca, Ennio Ciotta, ha cercato di chiudere garantendo con un comunicato stampa come l'attuale vertice dell'azienda sanitaria provinciale abbia valorizzato, se non addirittura potenziato, il reparto. Ma la consigliera comunale del Movimento 5 Stelle, che dichiara di condividere le preoccupazioni del Comitato Civico per la Sanità, non è d'accordo. Sposiamo in pieno quella che è intanto l'iniziativa del Comitato Civico per la Sanità di creare un presidio permanente all'ospedale di Sciacca e ne condividiamo ovviamente i dubbi, i timori e le perplessità. Dubbi e timori che sono non soltanto del Comitato Civico, ma che sono dei cittadini sia di Sciacca che degli Interland. L'ospedale di Sciacca ogni giorno languisce per quanto riguarda le risorse umane, per quanto riguarda i servizi e tutto si è cronicizzato ed è diventato ancora più evidente in seguito all'emergenza Covid. Quindi lei sta facendo notare che la situazione era già difficile prima che scoppiasse l'emergenza. E anche questo ritorno alla riattivazione dei servizi precedenti va particolarmente a rilento? Va particolarmente a rilento nonostante le rassicurazioni che spesso vengono date a mezzo stampa. Quindi si diano risposte definitivamente concrete e tangibili, perché le rassicurazioni non bastano più, perché i cittadini sono allarmati e pretendono delle risposte certe. Eppure, osserva Teresa Bilello, quando in passato a Sciacca, proprio in cardiologia ed emodinamica, c'erano pochi medici, nessuno dell'ASPE si era posto al problema, mentre ora, anziché trovare soluzioni alternative, si è deciso di usare le professionalità del nostro presidio ospedaliero. Consigliera comunale che poi elenca i servizi da riattivare, da quelli ambulatoriali alla piena funzionalità di tutti i reparti, dall'acquisto delle apparecchiature biomedicali necessarie al completamento della stroke unit e dei lavori presso la camera calda e la stanteria del pronto soccorso. E ancora, ha chiesto l'incremento di personale medico-infermeristico-ausiliario, la risoluzione definitiva dell'atavico problema delle zanzare e l'istituzione del servizio H24 del centralino. Per quanto riguarda la richiesta della nomina di un nuovo direttore generale, lei la considera una cosa importante rispetto al fatto che magari un direttore facente funzione non è in grado di programmare? No, è assolutamente prioritaria. Anche su questo mi allineo a quello che è stato avanzato dal Comitato Civico per la Sanità. È fondamentale, mi sembra che sia il caso di intervenire con questa nomina. Però ci tengo a sottolineare, ecco, siccome nessuno di noi sa effettivamente cosa ci aspetterà di qui a un mese o cosa ci aspetterà il prossimo autunno, il prossimo inverno. Spieriamo, ci auguriamo e preghiamo che la situazione possa rimanere sotto controllo come è attualmente. Non facciamoci trovare impreparati. L'ospedale di Sciacca abbia piena dignità e rispetto una volta per tutte, dice Labilello, la quale, in riferimento alla decisione del sindaco Valenti di aderire alla protesta del Comitato, dice Aderire alla protesta sicuramente, però insomma anche andare oltre, farsi sentire con l'assessore regionale e con i vertici dell'ASP. Anche io aderirò alla protesta, però il sindaco deve svolgere il proprio ruolo che va oltre.